Epoca prepalaziale, protopalaziale, neopalaziale, post palaziale. Beh, evidentemente la cultura minoica legata all'isola di Creta è legata alla costruzione dei palazzi. Questi famosi palazzi erano davvero i luoghi, il centro, il fulcro di tutta la cultura e, dicevamo, avevano questa formazione quasi labirintica. Dicevamo che si adattavano all'andamento naturale del terreno, qui ho provato a trovare questa foto molto bella, molto evocativa, in cui si vede appunto che c'erano diverse le strutture, le stanze articolate secondo piani diversi. Vi faccio vedere, e lo guardiamo un pochino più da vicino, la tipologia in realtà di queste possibili piante. In realtà questa non è la pianta del palazzo di Knosso, la avevo già inserita nel precedente video, ma c'era un cortile centrale aperto intorno cui si organizzavano i vari altri spazi. Potevano esserci gli appartamenti del re o della regina, i magazzini, i laboratori e poi nel palazzo di Knosso, appunto non è questo, c'erano una serie di gradinate che venivano chiamati teatro, luoghi in realtà in cui potevano esserci, chiamiamole delle rappresentazioni, ma molto spesso erano più legate a dei rituali di tipo religioso. Insomma, abbiamo detto, questi palazzi erano davvero realizzati secondo un andamento labirintico, ma i palazzi, in realtà queste cittadelle cretesi, non erano protette da mura. Questo è un tema interessante su cui riflettere. D'altra parte erano ambienti molto, molto grandi, dicevamo, pensate che in particolare il palazzo di Knosso, qui c'è una ricostruzione ecco del palazzo di Knosso, doveva, era orientato secondo l'asse nord-sud e contava qualcosa come circa 1300 diversi ambienti. L'ampiezza copriva uno spazio di 100 metri per 150 circa e dava evidentemente alloggio o ospitalità a una comunità di circa 80.000 persone, quindi immaginatevi davvero una struttura molto articolata. e che però, dicevamo, non seguiva uno sviluppo apparentemente regolare, ma questi spazi venivano appunto a incastrarsi, a inanellarsi uno in fila all'altro, in un modo quasi davvero che richiamava l'immagine del labirinto, da cui forse, dicevamo, davvero il mito stesso legato all'isola di Creta prende il nome, prende avvio. Dicevamo appunto che questi palazzi non presentavano delle mura, perché la civiltà minoica, avete visto, l'isola di Creta in particolare, era già protetta naturalmente dal mare, quindi l'arrivo di eventuali nemici sarebbe stato avvistato con un certo margine di tempo, ma dicevamo in particolare che la cultura cretese era una cultura pacifica, che aveva portato un arricchimento anche economico, ma anche una grande fioritura culturale, grazie proprio a questi scambi commerciali che intratteneva con tutti i territori che c'erano intorno, nel mar Egeo appunto, dentro cui lei appunto si era incastrata questo spazio, ricavato, incastonato, ricavato questo spazio culturale importante. Questo ve lo metto in evidenza, questi palazzi senza mura, perché parlavamo dell'epoca appunto protopalazziale e poi neopalazziale, dicevamo in particolare i palazzi di Knosso, Festo e Maglia, ma questa caratteristica di avere palazzi senza mura ve la faccio notare, perché sarà proprio la grande differenza rispetto alla cultura micenea, di micene, di cui ci occuperemo subito dopo. D'altra parte, dicevamo, il mare portava influenze, ma anche portava, proponeva una protezione naturale nei confronti dei nemici. Vi faccio vedere come erano organizzati questi palazzi. Come vedete, dicevamo, intorno a questo cortile centrale, con una serie di spazi che abbiamo provato a identificare prima, seppur velocemente, ma vedete che c'era grandissimo spazio dedicato a queste logge aperte. Parliamo di logge ogni volta che c'è uno spazio colonnato, quindi era uno spazio che prevedeva una presenza di spazi veramente aperti come il cortile, ma anche di spazi semi aperti, questi porticati appunto, dai quali si accedeva tramite le varie istanze. Talvolta c'erano quasi le istanze una infilata nell'altra, davvero, che potevano essere forse aperte una all'altra, grazie a questi colonnati. E in particolare vi faccio vedere appunto che questi colonnati come erano realizzati? Allora, erano verosimilmente fatti come colonne lignee, cioè di legno, non queste che noi vediamo, altrimenti non si sarebbero conservate, molto colorate, come vedete in questo momento, e rastremate verso il basso. Cosa vuol dire rastremate verso il basso? La rastrematura è la caratteristica di avere una dimensione diversa alla base e all'altezza del capitello della nostra colonna. Nel caso appunto delle colonne impiegate nell'isola di Creta parliamo di colonne rastremate, cioè che si restringono verso il basso. Questo tipo di scelta architettonica non verrà quasi più replicato nelle culture che studieremo dopo, perché se ci pensate, se c'è una maggiore dimensione sotto il capitello c'è anche un maggior peso. Quindi in realtà immaginate di avere, lo capiamo molto bene, una questione statica di equilibrio, se noi stiamo su un piede solo, quindi abbiamo meno spazio attaccato al suolo, siamo in equilibrio precario. Se invece abbiamo entrambi i piedi magari anche aperti, ben saldamente, attaccati a terra, ecco allora che il nostro equilibrio è più stabile. Ma all'epoca appunto le colonne erano rastremate verso il basso, si restringevano verso il basso ed erano molto colorate perché appunto avete capito che il colore era davvero molto presente nelle culture antiche che stiamo studiando e che noi normalmente ci immaginiamo in modo completamente diverso. Tra l'altro vedete che queste colonne presentavano una sorta di base in pietra, forse lo vedete meglio nella precedente immagine, e poi avevano un capitello, abbiamo imparato a riconoscere il capitello, sappiamo essere appunto questa sorta di elemento decorativo che si trova in cima alla colonna, come se fosse il capo, dicevamo dal latino caput, della colonna stessa, e appunto questi capitelli decorati a toro. Che cos'era il toro? È una sorta, anche qui ovviamente legato alla cultura micenea, non ci stupisce, ma in questo caso era in realtà questa forma circolare con una forma convessa, cioè sporgente, verso il basso, quindi voi vedete appunto questa forma a toro, ritroveremo questo elemento a toro, il toro, nelle colonne che studieremo subito dopo della cultura greca. Le stanze di questi palazzi erano fortemente decorate, perché dicevamo la cultura minoica era molto elegante, molto raffinata, gioiosa, era una cultura appunto di scambi commerciali, non una cultura, una civiltà di guerra. E quindi anche questi palazzi erano decorati con questi elementi ornamentali spesso stilizzati, spesso tratti dal mondo naturale, come vedremo meglio tra un attimo. C'era quindi la pittura parietale, spesso soggetti, dicevamo, geometrici o geometrizzati e naturalistici. In particolare vi voglio mostrare, questo è il luogo del ritrovamento del palazzo di Knosso, in cui è stato rinvenuto questo, rinvenuta questa testimonianza importantissima. Parliamo di una, ciò che resta di una, chiamiamola fresco, che come soggetto ci presenta il salto del toro, viene anche titolato come il gioco del toro. Se dovessi darvi il nome vero e proprio che avevano questi giochi nell'antichità, dovrei parlare di Taurocatapsia. Tauro è appunto il toro, catapsia è il salto del toro, il gioco del salto del toro, Taurocatapsia. Parola molto difficile, possiamo semplificarcela dicendoci, il salto del toro, il gioco del toro. Ora, avete visto che c'è una qualche differenza tra le due immagini. Se voi cercate sul web salto del toro, gioco del toro, Taurocatapsia, trovate entrambe queste immagini ed entrambe si riferiscono alla cultura che stiamo studiando, all'opera che stiamo studiando, perché qui occorre che vi faccia un ulteriore, vi proponga un ulteriore riflessione. Allora, vi dicevo che in particolare i resti del palazzo di Knosso sono stati rinvenuti, riscoperti dalla genialità, dalla fortuna, anche se vogliamo, dalla testardaggine, tutte queste cose insieme, di un archeologo inglese che si chiamava Sir Arthur John Evans. Evans, dicevamo, si scrive. Ecco, il nostro Evans scoprirà, a partire dal 1900, ma poi gli scavi si porteranno fino al 1932, è il palazzo, i resti del palazzo di Knosso, dal 1900 appunto ritrovato. Ma in quell'epoca, diciamo che l'archeologia aveva già fatto dei passi in avanti rispetto ovviamente al metodo tutt'altro che scientifico dell'Ottocento, ma ancora dal momento che Evans aveva finanziato le proprie spese in forma proprio privata parte di questi scavi, soprattutto all'inizio, aveva anche provveduto a far restaurare questi luoghi in un modo assolutamente, secondo la moda dell'epoca, ad applicare quindi una sorta di restauro romantico, cosa vuol dire? Quasi a rimpiangere la perfezione perduta del passato e a reinterpretare i resti che venivano trovati immaginandosi, reintegrando le parti mancanti, immaginandosi come dovevano essere. Ecco, un tipo di restauro oggi totalmente proibito dalla comunità internazionale, perché quella scelta in qualche modo rispondeva a questa idea di questa architettura revivalista, che voleva riproporre l'architettura del passato e quindi Evans provvederà a restaurare, a far restaurare impropriamente alcune di queste parti, voi vedete qui appunto questa sorta di decorazione murale con questo toro, sembra veramente qualcosa fatto ieri l'altro e non risalire all'epoca, l'epoca neopalaziale di cui questi frammenti sono i residui risale al 1450 a.C. circa, quindi davvero un'epoca molto lontana, ma Evans ha avuto appunto il merito di riscoprire questa cultura e il demerito, ma ripeto è parte della storia di quelle epoche, di provvedere a dei restauri un po' troppo fantasiosi di reintegrazione, di reinterpretazione, quindi in realtà così si presentava il salto del toro quando è, no, così doveva essere, in realtà se noi oggi vediamo le fotografie ci compare in questo modo perché appunto è più facile per noi da studiare, ma davvero vedete che c'è una qualche differenza importante sostanziale. Ora, in cosa consisteva questo salto del toro? Allora, qui devo parlarvi di qualcosa di altrettanto interessante, cioè di riti di passaggio, era un gioco ma era anche un rito. Cosa sono i riti di passaggio? Sono quei riti che all'interno di un percorso di vita tutti devono affrontare. Forse nella nostra cultura così svuotata, fatemelo dire, da un certo punto di vista, no, di significati simbolici, forse uno degli ultimi riti di passaggio che sono rimasti forse è l'esame di Stato, l'esame di maturità, il momento in cui gli studenti smettono, finiscono, concludono un percorso, smettono di essere studenti ed entrano appieno nel mondo degli adulti. Allora, i riti di passaggio, ma possono essere tanti altri, nell'antichità erano proprio questi momenti rituali mitici in cui spesso i giovani erano coinvolti e partecipando a questi riti in qualche modo affrontavano l'ignoto e facevano un passo in avanti, scattavano di fascia, come dire, cambiavano, forse da che erano prima semplici adolescenti diventavano dei piccoli adulti, insomma crescevano. Ecco, in particolare si pensa che questa taurocatapsia, questo gioco, era anche un'esibizione se vogliamo, ma era più di un gioco sportivo, più di uno spettacolo, si pensava appunto che fosse anche un vero e proprio rito di passaggio. Allora, vi propongo un'altra espressione su cui riflettere, perché la taurocatapsia, questo salto del toro, prevedeva di dover prendere il toro per le corna e grazie alla spinta che sarebbe derivata, il toro avrebbe abbassato le corna per poi tirare sulla testa con violenza, immaginate la forza del toro. Ecco, il personaggio che aveva preso il toro per le corna avrebbe approfittato di questa violenza per saltare in alto e a testa in giù in qualche modo scorrere. Vi faccio vedere una foto di una statua sempre testimonianza della cultura minoica che ci prevedeva appunto una qualcosa di simile, quindi a testa in giù un balzo che poi permetteva di rimbalzare dall'altra parte, di ritornare in piedi. Ecco compiuto questo rito, prendere il toro per le cona. Cosa vuol dire per noi questa espressione? Vuol dire non esitare. Quando c'è un problema, affrontarlo. Immaginate di avere un toro davanti a voi. Occorre prendere le corna del toro per non farsi incornare appunto e per approfittare di questo enorme ostacolo e riuscire a saltare questo ostacolo facendosi forza, facendo leva sulla forza del toro stesso, della difficoltà stessa, balzare in alto e superarlo questo ostacolo. Un'immagine molto bella, molto forte, ci vuole coraggio ed ecco che appunto è il coraggio che evidentemente l'ha richiesto ai nostri personaggi dell'isola cretese. Parliamo per un attimo però di pittura, cioè al di là del soggetto in sé, andiamo ad analizzare le caratteristiche che noi troviamo in questa bellissima testimonianza pittorica di questa pittura parietale. Allora vedete che innanzitutto il toro di grandi dimensioni è rappresentato in corsa, ha le quattro zampe alzate, quindi c'è un grande movimento che viene evocato. Già così, già soltanto per questo elemento, vedete che l'immagine che vi presento è molto diversa dalla pittura parietale egizia che vi ho proposto o dalla pittura che noi abbiamo visto nel libro dei morti, delle frammento che noi abbiamo analizzato. Ma vedete che appunto è un toro di grandi dimensioni che ci mostra delle grandi linee curve, quindi curve molto morbide, come scelte, guardate le curve della coda, le curve delle zampe alzate, le curve delle corna, quindi una scelta pittorica molto morbida. Ogni volta che troveremo linee curve viene evocato l'effetto di armonia, guardate anche la curva del corpo di questo personaggio che sta saltando a testa in giù, sopra il corpo del toro. Ma vi farei notare a questo punto che sono tre i personaggi presenti nella scena, tre personaggi in forma antropomofa, cioè tre uomini presenti nella scena. E allora vi faccio notare anche che quello centrale ha la carnagione scura. Così come gli egizi rappresentavano col colore più scuro gli uomini, dicevamo, allora potremmo pensare che questi due personaggi che noi vediamo rappresentati all'inizio e alla fine di questa scena potrebbero essere due donne, due personaggi femminili. Il colore della loro pelle infatti è più chiaro, quindi secondo questa distinzione che era quella appunto che già ci deriva dagli egizi potremmo dare credito a questa ipotesi. In questo senso allora anche le ragazze avrebbero dovuto intraprendere questo rito di passaggio così pericoloso, pensate il coraggio che ci voleva. D'altra parte questi personaggi indossano tutti lo stesso tipo di gonnellino, sia il personaggio maschile che questi personaggi che vediamo prima e dopo. Quindi non so, gli storici dell'arte, gli archeologi sono divisi, c'è chi dice che siano effettivamente donne, c'è chi dice che invece il genere di questi personaggi non sia così riconoscibile. Ma mi interessava mostrarvi un altro elemento su cui fermarci e cioè che i personaggi rappresentati vedete che potrebbero ricordarci la pittura egizia perché le gambe vengono viste di profilo, però non è un profilo rigido e il busto è visto di profilo, non è visto in forma frontale. Quindi vedete che anche se ci sono alcuni elementi di somiglianza con la cultura, la pittura egizia, guardate il volto visto di profilo e l'occhio frontale forse, forse qualche elemento di somiglianza c'è ma sicuramente abbiamo la presenza del movimento e quindi le posture dei personaggi sono molto più libere nello spazio a partire da questo personaggio che sta volteggiando nell'area. Guardate a questo punto anche le acconciature, questi capelli lunghi dei ragazzi che stanno saltando, vedete che i capelli seguono la forma del corpo ma svolazzano più liberi. Ecco queste sicuramente sono tratti caratteristiche che sicuramente non avremmo trovato nella pittura egizia. Poi vi farei notare a questo punto però che abbiamo delle linee di contorno molto montonette molto marcate che a questo punto permettono alla pittura di essere stesa a campitura cioè in forma piatta a riempimento in modo molto evidente. I colori impiegati vedete che sono molto gioiosi, molto luminosi, sempre a testimonianza di una cultura che era davvero luminosa e gioiosa, pacifica. Guardate a questo punto anche le bellissime decorazioni geometriche della cornice. Non c'è una vera e propria corrispondenza con il mondo della realtà, vedete che ci sono questi elementi decorativi realizzati con queste linee oblique, ondulate, con questi punti colorati che creano degli effetti, delle tramature molto particolari ma sono astratti questi elementi, quindi molto raffinati, molto decorativi, ornamentali e astratti. Questo vi dicevo è invece un frammento di una piccola statuetta che rappresenta sempre la taurocatapsia, quindi questo salto del toro, ma direi che possiamo fermarci.